e si è appena conclusa la partita fra bet shop e canizzare a ceramiche che ha visto vincere questi ultimi per 1 a 0 siamo qui con bruno fassari e marco di bella buonasera allora presidente possiamo partire intanto dal suo capitano poi noi alla fine andiamo per ultimi allora oggi capitano è anche migliore in campo perché è un gol di fondamentale importanza quello che è arrivato quasi nei minuti di recupero sì va bene il merito è da dividere con michele e diciamo che mi ha mandato in porta con un bellissimo passaggio sono stato bravo e fortunato a metterla dentro anche se fosse il pareggio era il risultato più giusto perché loro sono davvero una bella squadra sì questo era infatti uno scontro al vertice prima contro seconda però anche per questo i tre punti sono fondamentali ora siete in fuga si può dire sì però ancora il campionato è lungo c'è tutto il girone soprattutto poi ci sono le quattro partite più importanti uno può arrivare anche primo però se puoi sbagliare la prima sei a casa e diciamo che adesso ci serve anche per per imparare a stare bene in campo e per essere pronti ad aiutare di finale in poi sì perché infatti proprio sullo stare bene in campo ti vorrei fare una domanda voi siete riusciti comunque a difendervi bene una difesa molto attenta però poi in fase offensiva avete avuto troppe difficoltà la rametta un po solo forse ogni tanto davanti e nel primo tempo anche pochi tiri in porta cosa dovete fare per migliorare proprio cercare più amalgama questa sarebbe la soluzione? sì vabbè ma noi a Michele lo possiamo solo ringraziare perché lui non è una prima punta le prime punte sono Ranno e Garozzo e purtroppo oggi non c'erano Michele ha fatto bene grazie a lui anche abbiamo vinto quindi le assenze verranno colmate dalle prossime partite? sì spero siamo tanti e speriamo che soprattutto Lele riesce con il lavoro a liberarsi perché lui davvero ci può fare fare la differenza va bene grazie mille passiamo al presidente allora Marco un'altra bella prestazione siete riusciti a continuare il vostro percorso senza sconfitte i bet shop erano l'altra squadra che era in battuta nel vostro girone li avete sconfitti con un 1-0 però molto risicato e anche molto difficile sì diciamo che era una partita abbastanza tessa perché per noi era un derby visto che dall'altro lato c'erano tutti gli amici nostri praticamente una famiglia in campo oggi c'era e quindi i ragazzi magari hanno risentito un po' di questa cosa poi magari ci siamo preparati un po' a freddo in campo siamo scesi, Viglia ancora era negli spogliatoi tempo di essere starci e poi comunque la difesa nella nostra è forte quindi è vero il primo tempo non abbiamo calciato in porta loro si giochicchiavano però non abbiamo rischiato molto cioè nelle altre partite Calabretta è stato insuperabile oggi ha fatto un intervento su Mauriggi il secondo tempo all'ultimo però non ha fatto altre parate il secondo tempo noi abbiamo Rametta è riuscito magari a liberarsi molto bene di Basile tante volte fa i complimenti al difensore centrale alla squadra avversaria che ha fatto una bella partita e quindi con Bruno che appoggiava l'azione in avanti siamo riusciti ad essere un po' più pericolosi Viglianisi due o tre volte poteva fare gol quindi va bene così essere imbattuti come ha detto Bruno abbiamo delle essenze in avanti senza attaccanti io mi ricordo solo in Milano di Capello forse ha vinto senza punte noi siamo siete il Bayern Monaco noi siamo una squadra di amici e comunque anche senza punte riuscite sempre a mantenere una difesa sempre protetta e a riuscire a non far impegnare come detto tu prima Calabretta però il suo intervento all'ultimo minuto è stata la legge del gol fatto col subito e lui è il numero uno come dice anche il ruolo e invece due parole sull'arbitro con un nervosismo che ha aumentato dal primo all'ultimo cosa è successo? no no l'arbitro è tutto a posto non ci può stare di sbagliare come sbagliano i giocatori i gol magari oggi i ragazzi è la prima volta che ci abitrava quindi magari bisogna capire come gestisce la partita i metodi che utilizza lui certo magari io so che le scivolate, le 7-7 non si possono fare solo sulla palla ed avversario lontano noi stiamo facendo gol con Milianisi e uno di loro è entrato in scivolata e prende la palla di Peppe e è arrivata alle stelle è impossibile lui da fare gol diciamo purtroppo sulla scivolata c'è anche il fatto dell'interpretazione dell'arbitro che a volte può creare problemi no anche perché poi nel ribaltimento dell'azione stiamo prendendo gol perché Maurizio ha reclamato un rigore che non so se c'era o non c'era comunque alla fine ci poteva stare il pareggio ma penso che come abbiamo giocato il secondo tempo la vittoria ci può anche stare quindi comunque dato che ci poteva stare il pareggio forse questi sono gli avversari più difficili nel girone? sì perché a volte non valgono i nomi che tu hai nella rosa ma il gruppo come hai parlato prima tu di Amalgoma e la Bet Shop sta facendo un gran campionato spero per loro che possano arrivare il più lontano possibile va bene grazie mille alla prossima